Continua dibattito sull'opportunità delle chat per le comunicazioni tra famiglie, studenti e insegnanti, il cui utilizzo è esploso nel periodo della didattica a distanza e che poi è diventato nuova normalità. Per i presidi del Lazio non ci sono dubbi. Stop alle conversazioni private. Genitori, ragazzi e professori dovranno comunicare attraverso la scuola. Unica eccezione le comunicazioni urgenti, gite cancellate o lezioni sospese. Ai docenti non sarà permesso avere conversazioni via WhatsApp o via social con i genitori degli studenti, una misura necessaria per evitare equivoci, spiegano i presidi. La tecnologia in sé non è né negativa né positiva. Quindi la tecnologia delle chat e in generale dei social media può apportare vantaggi e può anche essere addivittura strumento di cyberbullismo. Quindi è necessario capire che bisogna utilizzarla in modo corretto e da questo punto di vista molta formazione, sempre più formazione secondo me è imprescindibile. La seconda considerazione è che un eventuale codice di autodisciplina può essere utile. Perché a cosa serve? Serve sostanzialmente a definire un buonsenso comune che evidentemente ancora non si è maturato perché queste tecnologie sono di introduzione molto recente. Dopo tanti anni che saranno utilizzate avremo un patrimonio comune di comportamenti. oggi ancora non c'è e quindi da questo punto di vista un codice sicuramente sarebbe utile. Le nuove regole in arrivo riprenderebbero quanto già deciso in Francia e Inghilterra per disciplinare non solo le norme di insegnamento ma anche di comportamento.